Musica Oggi è stata la prima presentazione oltre a quella ufficiale, credo che sia andata molto bene, è stata anche giusto farla qua, che è la città che ospita la Casa di Dirige, la Casa di Dirige che si identifica nella città stessa e viceversa. Il libro è una storia, una storia calabrese, una storia molto interessante, bella, Gheaton Saffioti è un personaggio più unico che è raro per la nostra terra, un esempio importante. Siamo molto soddisfatti, siamo molto soddisfatti sia di come è andata la serata, ma anche dell'interlocuzione che abbiamo avuto con il pubblico, le domande sempre tutte molto puntuali, molto precise e c'è stato modo di spiegare il libro, di raccontare soprattutto la vicenda umana e personale di Gaetano che è un testimone di giustizia pregevolissimo, un uomo che ha fatto una scelta di vita molto importante. Il libro sta piacendo, il libro va bene, ci sono tutte le premesse per continuare a realizzare una grande opera.